Con il concerto degli archi ensemble è ripresa l'attività dell'auditorium della sede siciliana della Rai, lo vedete nelle immagini, l'ensemble, forte di un notevolismo e di importante repertorio musicale, di una consistente esperienza pluriennale sulle scene di rilevanza nazionale e internazionale, vanta una storia di tutto rispetto per la formazione professionale dei suoi membri, nonché per la collaborazione con grandi solisti e direttori. Tra i prossimi impegni nell'agenda della formazione cameristica, oltre a quelli sul territorio italiano, spiccano quelli all'estero. Nel 2008 Cina, Giappone, Malesi e Venezuela e nel 2009 Stati Uniti e ancora Australia.